Oggi io insieme agli assessori prenderemo nota di tutte quante le richieste e come stiamo già facendo alla guizza, gli uffici sono già al lavoro per risolvere ovviamente quelle che sono le richieste che sono realizzabili, problemi di lampioni, problemi di fognature, problemi ovviamente di carattere edilizio e di prossimità. Per quanto riguarda problematiche più importanti è logico che per le opere pubbliche bisognerà inserire nel piano delle opere pubbliche, però tutte le piccole cose che poi non sono piccole per la gente le stiamo già risolvendo. Abbiamo cominciato un piano molto importante per quanto riguarda i campi nomadi che sono abusivi, come sapete dal punto di vista edilizio abbiamo resi abusivi questi campi nomadi in tutto il territorio, quindi questo è il primo passo, entro i 60 giorni se non verranno effettuate le demolizioni previste acquisiremo tutto a patrimonio comunale. Un'operazione penso mai vista negli ultimi 20 anni, per quanto riguarda il campo nomadi che c'è attualmente noi studieremo una soluzione ad hoc anche eventualmente, l'ho già detto, anche con un'opera pubblica. Questo non è solo il problema di mortisie, ce ne sono molti altri legati alla sicurezza, legati anche al fatto che hanno aperto recentemente anche una sala slot. Su questo l'amministrazione comunale, ripeto, non abbassa la guardia e l'autorizzazione è della questura, quindi non è del comune. Noi abbiamo depositato una relazione molto dettagliata in questura dove indicavamo l'impossibilità in una zona residenziale di aprire una sala di quel tipo. Purtroppo noi continueremo a mandare la nostra polizia municipale per monitorare la situazione e quindi ci saranno controlli che verranno effettuati. Continuo a ripetere che se fosse per noi non ce ne sarebbe neppure una nel territorio comunale. Purtroppo le autorizzazioni vengono date in questi casi dalla questura.